Buona vista al vostro ecco a radio della Pegna Valbenetti, andiamo a Musè e Spagnolo Tutti ragazzi, allegria a tutti voi, è il calcio, il sport più bello del mondo e oggi siamo qui davanti alla baccheria, ma anche davanti a tutti abbiamo di fronte il bar a Gran Cafè, guardiamo tutto fuori tempo, tutto a Priverno ragazzi, siamo qui per il grande ritorno a Priverno, ci mettiamo sotto, riparati sotto la pioggia, appunto, arrivati alla pioggia per dire il pronostico di Real Madrid Bayern Monaco, secondo me uno fisso vince Real Madrid 2 a 1 vi consiglio se proprio dovete giocare dei marcatori per il Real Madrid, Vinicius, Junior e Spagnol mentre per il Bayern Monaco vi consiglio Harry Kane, l'uragano inglese questi sono i miei consigli, quindi questi sono i miei pronostici, quali sono i vostri? scriveteli nei commenti qua sotto, mi raccomando, alla prossima ragazzi, dai che stasera dobbiamo vincere la diciottesima schedina consecutiva per la diciottesima, dai, che siamo a 17 partite consecutive abbiamo vinto dei Central Serie A, Champions, Europa, Come, tutte quante, peccate a presto e buona prima con la Lima, vinciamo la prossima schedina buona la prima